Signore e signori, 5 anni fa raccontavamo la prima vittoria a Monza dal predestinato e allora torniamo tutti insieme a chiamarlo così perché questa è una gara da predestinato il predestinato vince il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca Ma come mi fai sognare, come mi fai sognare Un'altra volta e torniamo Incredibile, si è inventato una magia che solo lui, solo la Ferrari, anche con l'aiuto straordinario di Carlos Sainz potevano pensare, immaginare e mettere in atto è una giornata fantastica per i tifosi della rossa tutti in piedi ad applaudire si sono inventati qualcosa di impressionante, di unico e Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia a casa nostro Charles a casa nostro Charles che magia che magia che magia che magia che magia competitista che magia